Buon pomeriggio ancora e buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini. Traffico rallentato in A1 tra Calenzano e il BV A1 variante di Valico verso Bologna, sempre sulla A1, rallentamenti per traffico intenso anche tra Arezzo e Val di Chiana in direzione Roma. Passiamo alla 12 tra Cole Salvetti e Rosignano Marittimo, un veicolo effermo in direzione di Genova. Lavori a Firenze in via Bolognese Vecchia, proseguono quelli di sostituzione della rete idrica fino al 22 gennaio, ricordo chiusura tra via Bolognese Nuova e via della Lastra Esclusa. Oggi al Franchi di Firenze c'è l'incontro di calcio tra Fiorentina e Torino, disposizioni della Questura con sette di vieti di transito e sosta in via Alefanti e in via Le Cialdini, le altre informazioni sui nostri canali social. Beh, non ci sono altri aggiornamenti al momento, Moversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.